Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Vincere nel trading è importante? Sì? No? Oggi parliamo di questo. Sì, lo so, detto così sembra una frase un po' fuori dalle righe perché certamente vincere nel trading dovrebbe essere importante perché portiamo in effetti a casa quello che è il nostro obiettivo, quindi fare profitto sui mercati. Dobbiamo però ricordarci una cosa, ragazzi. A volte per arrivare a una meta bisogna anche seguire un po' strade alternative e spesso quello che ci sembra essere la cosa più semplice a volte non è effettivamente quella strada giusta, quella corretta, quella che effettivamente ci porta all'obiettivo, al risultato sperato. Ebbene, oggi parliamo della cosa che ritengo assolutamente più importante del vincere nel trading. Possibile? Vedremo. Allora vi leggo a tal proposito un messaggio che mi è arrivato ieri da uno dei miei corsisti, Giovanni, perché ha finito il corso di formazione, il mio percorso It's Trading Time. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione. E dopo aver finito il corso si è iscritta alla mia Academy. Dopodiché abbiamo fatto un po' qualche colloquio in Direct Message e ha iniziato a operare in demo, così come io ho consigliato di fare quando si inizia questo tipo di percorso di formazione. Se non che mi manda un paio di giorni fa questo tipo di email. Ragazzi, ve la leggo, ve la voglio proprio leggere direttamente perché facciamo prima. Allora ragazzi, eccola qui. Ovviamente non sono pronto per il real time, ma guarda un po' i primi risultati in paper. Non mi aspettavo una cosa del genere. Ha fatto il 10%, quindi nel giro di due giorni di prove ho fatto il 10%. Ragazzi, allora io sono sempre contentissimo quando uno dei miei corsisti mi manda un tipo di messaggio di questo tipo. Cioè sono tanti, spesso mi sono arrivate queste email e io sono molto contento. Perché da una parte vuol dire che il percorso di formazione e quello che insegno nelle ore disponibili nel videocorso sono corrette e raggiungono l'obiettivo giusto. Però dall'altra è anche un merito del corsista, perché vuol dire che sicuramente ha recepito bene gli insegnamenti, quelle che sono le metodologie e quello che è la logica. Ma andiamo, andiamo al succo. Volete sapere cosa gli ho risposto io? Adesso vi leggo anche cosa gli ho risposto. Fascina che sorride e poi la mia risposta è stata questa. Mi raccomando, non perdere il metodo. Ricorda che poi arriveranno le serie negative. Serie negative significa una serie di trade che possono essere in stop loss. Quindi ragiona sempre sul metodo, mai sul vincite. Le vincite o le perdite non ti devono interessare. Poi ho scritto, ora ti faccio un video a proposito. Va bene, allora ragazzi, scherzi a parte. Allora, le vincite o perdite non devono interessare a un trader. È così, è la verità. Cosa deve interessare ad un trader? Deve interessare la metodologia. Se siete riusciti a ottenere quello che effettivamente stavate cercando di ottenere, a volte il mercato vi dà un grande profitto, ragazzi, altre volte no. Ma questo non dipende dalla vostra capacità di fare i trader. Quello che dipende dalla vostra capacità è attenervi al piano. Sì, lo so, è una frase da film, una frase da Mission Impossible. Anzi, direi, visto il periodo, è una frase più dalla casa di carta. Vabbè, allora, attenersi al piano del professore. Ok, diciamo così. Perché, ragazzi? Perché è il vero scopo di chi impara a fare trading. Perché c'è una differenza il fare un'operazione che vi va in profitto, non so, non posso dire oggi, a culo, sul mercato, oppure un'operazione che è studiata nei minimi dettagli per essere un'operazione profittevole per tanto tempo, ragazzi. Cioè, basata su una strategia, una metodologia, un metodo che vi dà la chiave di lettura. E infatti è quello che anche io ho fatto durante il mio corso di formazione e vedo, insomma, che Giovanni lo ha recepito alla perfezione. È il metodo quello che conta, ragazzi. Mi sono battuto tanto sul canale YouTube e su tutti quelli che sono i miei video anche di insegnamento, di formazione, le mie live. Ragazzi, guardate anche le mie ultime live, vi lascio il link in descrizione, dove parlo appositamente del metodo. Perché, ragazzi, i mercati sono aleatori. Quindi noi non possiamo sapere se un'operazione, un nostro trade, potrà essere effettivamente un trade profittevole o meno. Possiamo alzare l'asticella della probabilità. Questo è quello che dovete fare. Questo è quello che dovete imparare, ragazzi. Quando fate una formazione relativamente al trading online, non dovete stare lì a guardare i segnali di trading, seguo il segnale di trading e voi sapete bene che io ho una serie di segnali pubblicati nella mia academy, sono seguiti da un sacco di persone, sono anche profittevoli, ragazzi, i trading system. Ma io sconsiglio a tutti l'utilizzo se non avete una grande formazione. Perché non sono fatti per quello. Dovete formarvi. Dovete formarvi nel modo giusto. Anche questo è fondamentale. Imparare il metodo. Non imparate 8.000 nozioni estremamente confusionarie che poi non vi fanno capire effettivamente come operare. Perché alla fine il trader, ragazzi, deve andare sul mercato, deve operare, deve fare le operazioni. E quindi alla fine io ho bisogno di chiarezza. Chiarezza, lo ripeto, cioè non dovete essere confusi. E per fare questo l'unica cosa che dovete fare è costruire e ragionare sul vostro metodo. Vi faccio un esempio semplicissimo, ma che ho imparato tanti anni fa quando feci un corso di formazione americano. Allora, questo esempio è fantastico. Immaginate di avere due motociclisti. C'è uno che ha fatto un corso, è appena uscito, amatoriale, si mette in pista, va a gareggia, accelera, insomma, è portato. Comunque fa il suo. Poi a un certo punto i suoi rivali incominciano a chi si buca la ruota, a chi gli salta l'elettronica della moto. Insomma, ragazzi, per un motivo o nell'altro. Questo, diciamo, motociclista vince. Ok? Vince. Allora lo dici, wow, sono portato, ho vinto, chissà, insomma, è la mia carriera, ho talento, il famoso talento. Poi arriva l'altra persona che invece ha studiato, è metodico, è anni che gareggia, è bravissimo, conosce tutte le parti della propria moto, la meccanica, come si fa, tutte le, diciamo, come si sta in pista, come accelera, va, gareggia, va, via. Parte in quarta, è una bellissima gara, e lì per vincere a un certo punto, purtroppo, l'elettronica incomincia a dare delle bizze. non gli dà quel gas, quel gas sufficiente per lo spunto finale per la vittoria. Arriva secondo. Quale dei due motociclisti è stato il più bravo? Quale dei due potrà ripetere la sua performance domani, ragazzi? Quale dei due? È questo che vi dovete chiedere. L'operazione della vita, quello che guadagnate da qui a domani, il 200%, ma ragazzi, sì, può capitare, per l'amor di Dio, Bitcoin nel 2013, chi l'ha comprato, ok? Può capitare, ma sono situazioni di fortuna, ragazzi. Non sono metodologia, non è trading, è semplicemente una grande fortuna. Magari dietro a questa fortuna c'è un po' di sana analisi, insomma, dei mercati, di quello che potevano essere le potenzialità, ragazzi, ma i mercati non fanno sempre quello che vorremmo che facessero. È questo il problema. Quindi scrivetemi anche nei commenti quello che pensate voi relativamente a questa cosa. È meglio spendere tutte le vostre ore di formazione, tutti i vostri sacrifici a cercare la chiave di volta, cerchiare la pietra filosofale, Harry Potter, visto che ci siamo in questo periodo, a cercare quell'operazione di trade della vita che mi fa guadagnare milioni, milioni di non so cosa, insomma, di Bitcoin, di Euro, di Dollari, non so cosa ci sarà un domani, oppure spendere il vostro tempo per imparare ad operare sui mercati, anche se poi non fate trading intraday. Non significa niente, ragazzi. Io stesso ho le mie posizioni di lungo periodo sui mercati, anche old, ma le costruisco utilizzando le tecniche di trading, ragazzi, perché davvero volete pensare che, insomma, stiamo lì, compriamo i mercati e poi aspettiamo di 12 anni fino a quando i mercati ci danno un profitto? Eh, insomma, vediamo. Chi di voi riesce a fare questa cosa ha la pazienza, l'emozione, l'emotività e soprattutto ha tanto di quel capitale da poterlo bloccare per 10 anni. Ragazzi, allora, bisogna essere anche realisti sulle cose e cercare di capire quelle che sono le varie sfaccettature. Quindi decidete voi, appunto, dove volete dedicare il vostro tempo, se ad attendere il colpo di fortuna oppure a fare il motociclista che conosce in dettaglio e quando ha finito la gara, anche se è arrivato secondo, va dal capo meccanico e gli dici l'elettronica in questo punto la devi modificare perché domani vinciamo così. Ed è quello che fa il trader, ed è quello che io ho consigliato di fare a Giovanni, ragiona sul metodo, ragiona sul metodo e apprendi il metodo perché quando arrivano le operazioni negative, ragazzi, voi sul metodo, sulla vostra struttura, andate a cercare di analizzare l'operazione e fatevi questa domanda e chiudo il video con questa domanda La strategia non ha funzionato perché è sbagliata o la strategia non ha funzionato perché semplicemente il mercato non è andato dove doveva andare? Ripetiamolo, domani probabilmente il mercato ci darà la soddisfazione migliore Se la strategia non è costruita in questo modo lavorate sulla strategia approfondite tutti i punti tutte l'elettronica, quelle cose, i problemini che possiamo modificare Bene, allora, io vi ringrazio per essere stati qui con me Pollicione ragazzi, ok? Che è un periodo di pollici mancanti Pollicione in su e ovviamente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti